Siamo al centro di Roma, a due passi dal Colosseo. Questo chiostro rinascimentale è stato costruito sulle rovine del palazzo dell'imperatore Lerone, la Domus Aurea. Ci troviamo nel cortile dell'edificio di San Pietro in Vincoli, sede della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università Sapienza. La sala del chiostro è quella degli affreschi. Gli edifici presso la città universitaria e quelli nei poli di Latina e Rieti rappresentano una facoltà dalla tradizione prestigiosa e radicata nel tempo. La prima scuola di ingegneristica, infatti, viene fondata a Roma nel 1817. Più di due secoli di specializzazioni e competenze ingegneristiche al servizio dei bisogni reali sono passate di qui. L'impegno della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale supera la semplice formazione accademica. Infatti offriamo un supporto essenziale agli studenti attraverso il SORT, Servizio di Orientamento e Tutorato, dove gli studenti trovano un sostegno completo per il loro percorso universitario. Orientamento allo studio, tutorato personalizzato, supporto linguistico e molto altro ancora. Un servizio strutturato e competente in collaborazione con i referenti della didattica di ciascun corso per agevolare l'esperienza di ciascuno. La Facoltà offre 20 biblioteche specializzate, sale lettura, spazi per lo studio e più di 100 laboratori per la pratica e la messa in campo di ciò che viene trasmesso, per un'esperienza universitaria che va al di là delle aule e dei libri. Esploriamo, sperimentiamo e innoviamo nei settori civile ed industriale attraverso l'attenta progettazione di infrastrutture, realizzazioni geotecniche, costruzioni idrauliche, trasporti e mobilità sostenibile, con attenzione alla difesa del territorio e alla tutela dell'ambiente. Questioni spaziali, guida e navigazione aerea e alta tensione sono solo alcune tra le discipline con cui confrontarsi, alimentando passione e competenza nell'ambito dell'ingegneria. Grazie alla stretta collaborazione con il mondo dell'industria, la Facoltà vanta importanti progetti di ricerca, in cui studenti e ricercatori possono esercitare la loro creatività attraverso stage, collaborazioni e tirocini fuori dalle aule e nei laboratori sperimentali. Progettare una motocicletta da corsa con il Sapienza Gladiators Racing Team? Oppure preferireste partecipare alla costruzione di una monoposto con Fast Charge o Gaillarda in gara nella Formula Student? Siete curiosi di sviluppare il futuro dei servizi via satellite? Vi piacerebbe entrare a far parte della Sapienza Aerospace Students Association? Vi incuriosisce partecipare a progetti di simulazioni sismiche o sicurezza stradale? Potete inoltre arricchire la vostra formazione confrontandovi con altre culture umane e professionali attraverso percorsi in lingua inglese o la possibilità di conseguire il doppio titolo di studio. Con oltre 200 accordi con università straniere per la mobilità internazionale, ingegneria è fortemente radicata nel tessuto internazionale. Tutto qui ha una vocazione pratica e dinamica, dalla progettazione alla realizzazione. Competenze solide, operative, altamente specializzate sono il punto di partenza per la costruzione del vostro futuro. Per essere già oggi gli ingegneri di domani. Grazie. 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 Grazie.